28 agosto 1860 nasce nicola zingarelli docente universitario filologo diede alle stampe il primo vocabolario della lingua italiana sintesi fra tradizione e innovazione che si distingueva per la grande attenzione riservata anche alle forme dell'uso corrente della lingua le sue prime indagini nell'ambito delle letterature romanze erano indirizzate in modo prevalente verso dante la raccolta di varie edizioni rare e pregiate 9.000 volumi è ora conservata nella biblioteca provinciale di foggia dove sono custoditi anche i documenti delle ricche corrispondenze epistolari il progetto del vocabolario nato nel 1912 per impulso degli editori milanesi bietti e reggiani ebbe concreta attuazione solo a partire dal 1917 quando iniziò a uscire sotto forma di fascicoli l'edizione poi raccolta per la prima volta in volume unico nel marzo 1922 il lancio era l'italia moderna ha il suo vocabolario il successo immediato dell'opera indusse lo studioso a lavorare all'aggiornamento dei lemmi fino agli ultimi giorni di vita la quinta edizione di cui corresse gran parte delle bozze andò alle stampe nell'agosto 1935 a due mesi di distanza dalla sua morte avvenuta a milano il grande sindacalista giuseppe di vittorio che di zingarelli fu conterraneo alla domanda di come pensava di saziare il popolo rispose la fame dipende dall'ignoranza se riusciremo a superarla supereremo anche i problemi di fame